Buongiorno a tutti e benvenuti nel video tutorial di Pixton. Pixton è un'applicazione web che permette di creare fumetti online. Questi fumetti possono essere creati anche partendo da storie già precedentemente create da altri utenti presenti all'interno della community. Inoltre questi fumetti poi possono essere condivisi tramite i vari social network. A questo punto per accedere all'applicazione digitiamo il suo nome sulla barra di ricerca e si aprirà la seguente schermata. A questo punto bisognerà decidere se effettuare la registrazione oppure il login tramite un account per educatori studenti oppure per genitori oppure un account business. Noi andremo ad accedere tramite un account per quanto riguarda gli educatori. Una volta effettuata la registrazione o il login questa sarà la schermata che vi apparirà. Io la registrazione l'avevo già fatta precedentemente quindi per quanto riguarda la registrazione bisogna chiarire due tre cose ovvero che nel momento in cui si sceglie il tipo di account quindi per esempio noi abbiamo fatto come educatori bisognerà appunto effettuare la registrazione poi l'applicazione chiederà di scegliere il nome da attribuire alla classe io in questo caso l'ho chiamata classe A. Bisognerà inserire poi il grado della scuola la materia e scegliere il metodo con cui vogliamo che gli studenti si uniscono al gruppo e ci sono due metodi possibili o utilizzando o facendogli utilizzare un account google che Pickstone segnala che è il metodo più raccomandato oppure utilizzando lo username di Pickstone cioè gli studenti seguiranno un link di accesso unico per quanto riguarda questa classe e inseriranno poi il loro nome utente quindi dopo aver effettuato questi passaggi questa sarà la dashboard del proprio account qui potremo vedere appunto le classi che avremo creato e questa è quella che ho creato io durante la registrazione se vogliamo crearne un'altra basterà cliccare su New Classroom in questa sezione invece potremo andare a visualizzare i fumetti che abbiamo creato quindi o editare un fumetto esistente o in caso condividerlo oppure andare a crearne uno nuovo cliccando su New Comic editiamo per esempio un fumetto creato precedentemente in quanto comunque la schermata di editing è la stessa anche per quanto riguarda la creazione di un nuovo fumetto quindi vedremo che nel pannello a sinistra potremo andare ad aggiungere nuovi pannelli in alto invece potremo andare a selezionare il background del nostro fumetto i personaggi che vorremmo inserire all'interno del fumetto spostarli in caso oppure decidere su che tipo di parte focalizzarci per quanto riguarda il nostro fumetto quindi scegliere una posizione specifica per quanto riguarda il personaggio e inserire una nuvola di testo si potrà scegliere anche l'espressione del nostro personaggio e poi anche l'azione in questa barra sottostante poi invece potremo decidere se vorremmo un'immagine un po più luminosa o un po più scura oppure andare a inserire una serie di altri oggetti oppure importare delle foto dal nostro computer poi una volta completato il nostro lavoro potremo cliccare su fatto e poi appunto potremo effettuarne o il download o la stampa oppure condividerlo tramite il link da distribuire per esempio ad altri utenti oppure tramite posta elettronica pinterest twitter o facebook il video tutorial è terminato e come avete potuto notare pixton è un'applicazione che permette di esprimere al meglio la propria immaginazione e la propria creatività ciao a tutti